Grazie Duilio, grazie Paolo. Allora sì, noi parliamo proprio di Sorrisi questa mattina e lo vogliamo fare con il dottor Fabio Massimo Abbenavoli. Benvenuto, lui è il presidente di Emergenza Sorrisi, un'organizzazione non governativa nata proprio per aiutare i bambini più sfortunati che nascono con delle gravissime malformazioni al viso e che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico nelle loro aree, nelle loro zone perché nascono in paesi poverissimi come il Bangladesh, come l'Afghanistan, l'Iraq, eccetera. Adesso poi ci dirà da dove arrivano questi bambini e quindi vengono anche sottoposti agli interventi qui in Italia. Ma non è soltanto questo, diciamo, quello che fa Emergenza Sorrisi. Intanto questa settimana sono stati operati dieci bambini, vero? Andiamo in questi paesi, facciamo formazione sui medici locali, operiamo questi bambini che altrimenti non avrebbero questa opportunità. sono, come diceva giustamente, gravissime deformazioni del volto, labbro leporino, palatoschisi, ma non solo, anche traumi da guerra. Abbiamo operato in Iraq, in Afghanistan, tantissimi bambini, diciamo, come risultati di questi maledetti episodi di guerra e quello che noi facciamo, ovviamente, quando non possiamo operare là e formare i medici locali, li portiamo in Italia. Abbiamo creato questa settimana proprio della solidarietà, dove abbiamo unito tante associazioni, abbiamo unito tanti ospedali, tanti dei nostri volontari si sono impegnati proprio per operare questi casi gravissimi che là non potevamo trattare. Stiamo vedendo in questo momento le immagini di medici e di volontari davvero all'opera. Ma ecco, voi formate, stava dicendo, i medici della zona, però oltre alla salute, perché è importante operare questi bambini, i bambini che nascono così? Perché in paesi poveri, ecco, vediamo questi bambini che nascono per questo, nascono così anche per il problema di malnutrizione, giusto? Assolutamente sì. Ecco, però esiste anche una credenza, esistono credenze popolari e quindi per questo è importante operarle e salvarle. Sì, in questi contesti non solo questi bambini, diciamo, hanno una difficoltà a crescere e molte volte muoiono proprio nei primi anni di vita perché non hanno questa possibilità di nutrirsi adeguatamente, ma anche sono assolutamente marginati, perché, come giustamente diceva, in contesti, diciamo, di estrema povertà, dove viene identificato una deformità del volto come una maledizione o come qualcosa collegato a un evento negativo, questi bambini vengono dalle famiglie emarginate, isolate. Viettizzate, ecco. Noi abbiamo trovato dei bambini che non uscivano da un'abitazione modesta in Africa da 13 anni, abbiamo operato dei bambini di 13-15 anni che non erano mai usciti da questa piccola capanna dove abitavano. Ecco, quanto può durare un intervento chirurgico? Stiamo vedendo le immagini bellissime di bambini che poi fortunatamente riescono ad ottenere il loro sorriso. Guardi, io ieri ho operato all'ospedale San Pietro qua a Roma, un bambino con un labbro in palato che non avevamo potuto operare in Iraq e è durato un'ora e un quarto. Cioè il peccato che noi riteniamo più grave è questo, che con un'ora, un'ora e un quarto riusciamo a salvare la vita di un bambino e in questi contesti è difficile trovare dei medici formati o delle strutture che siano adeguate e che consentano di fare questi interventi. L'abbro leporino è anche palato schisi, stava dicendo, no? Assolutamente, è quello l'elemento importante. Quelli che trattate di più. Esatto, il labbro, diciamo, il leporino e la palato schisi sono i nostri obiettivi principali. Il palato è quello che non consente di vivere perché non consente nutrire a questi bambini. Ecco, la vostra associazione è da chi è formata? Abbiamo detto da medici, da volontari? Esatto, sono tutti volontari che gratuitamente offrono il loro tempo e il loro servizio, gente di altissima professionalità e altissima capacità che dal punto di vista anche umano, che lascia le loro famiglie, lascia i loro lavori, prende, diciamo, delle vacanze e partece a queste missioni. Ecco, mi puoi raccontare una storia che le è rimasta impressa? Io stavo ancora guardando queste immagini, che sono immagini molto forti ma anche molto belle di speranza, diciamo. Assolutamente, assolutamente. Le dico la storia proprio di questi giorni. Abbiamo portato questo bambino con il labbro e parato, ci siamo resi conto che c'è un problema anche al cuore e siamo riusciti a scatenare tutte le nostre forze e operiamo anche questo bambino al cuore che i genitori non l'avano detto che aveva questa deformità perché altrimenti non avremmo potuto portarlo. Quindi, insomma, si creano, assolutamente sì, si creano delle sinergie. Poi noi siamo italiani, quindi riusciamo sempre a organizzarci e a superare ogni difficoltà. Il bambino più piccolo che ha operato? Ho operato un bambino di tre mesi e mezzo. Quindi in Italia l'ha fatto? No, l'ho operato in Armenia perché, diciamo, noi dovevamo partire, questo bambino non riusciva a nutrirlo. Abbiamo, devo dire, tra parentesi, rischiato un po', ma siamo riusciti a portare a compimento anche questa cosa. E le vite salvate le avete contate? Abbiamo più di 2.000 interventi fatti in questi ultimi anni, più di 300 medici formati e devo dire tutto questo grande entusiasmo da parte nostra, da parte, diciamo, di tutti i medici volontari. Questa è un'organizzazione che gratuitamente offre il loro volto, noi mettiamo, diciamo, tutto su internet assolutamente trasparente, ora abbiamo l'SMS solidale su internet, si può vedere, si può lanciare, quindi devo dire che la nostra attività è veramente un'attività molto valida. Ecco, dove vi troviamo? Su internet, così almeno possiamo aiutarvi a raggiungere alcuni degli obiettivi, almeno. Ecco, ce lo dica lei? www.emergenzasorrisi.it, ma se uno va alla chirurgia del sorriso si trova subito. Grazie, grazie professore per essere stato con noi, adesso vediamo che tempo fa con il tenente colonnello Filippo Petrucci.